E' il comune di Gioia Tauro a parlare adesso e a fare la voce grossa tramite una missiva indirizzata alle autorità politiche competenti. In gioco l'attenzione che merita di essere rivolta alla stazione di Gioia Tauro, capoluogo dell'omonima piana che comprende un bacino di 33 comuni per un totale di circa 180.000 abitanti. La posizione di Gioia Tauro è baricentrica, non solo rispetto all'intera piana, ma è facilmente raggiungibile anche dall'utenza proveniente dal versante ionico, grazie al collegamento di autostrada e superstrada. Inoltre il comune di Gioia è sempre stato riconosciuto come un polo commerciale strategico. Non a caso, proprio nei pressi della stazione, sorgerà il costruendo terminal degli autobus di ferrovie della Calabria, cantiere fermo ormai da qualche anno e con l'eventuale riconversione delle linee taurenzi in metropolitana leggera, che consentirebbero, con un piano dei trasporti integrato che possa rispondere alle nuove esigenze dettate dalla mobilità urbana, di stravolgere quello che finora è stato il concetto di trasporto pubblico in Calabria, creando i presupposti per un vero e proprio interporto che possa garantire lo scambio di modalità tra i trasporti, treno, autobus e metropolitana di superficie al servizio dell'intera piana e dell'area portuale. Tale posizione era ben nota anche quando si è deciso di investire importanti somme sullo scalo gioiese. Infatti, grazie ai fondi europei, la stazione è stata oggetto di un'importante opera di restyling per prepararla alla fermata dei treni ad alta velocità. Il costo totale degli interventi ha superato abbondantemente i 30 milioni di euro. Nello specifico sono stati ampliati i parcheggi e è stata fornita di quattro ascensori e di accessi ai servizi ai treni per persone disabili o con mobilità ridotta. È stata dotata di cinque binari di circolazione, di cui quattro a doppio senso e quindi fruibili dai treni ad alta velocità, oltre ai bagni con l'osservanza delle nuove prescrizioni sanitarie ed una narseri. Purtroppo, ispiegabilmente negli anni, la stazione di Gioletta Auro è stata declassata partendo dalla chiusura della biglietteria. Tante fermate dei treni sono state annullate e quindi tutta la spesa sostenuta per ammodernarla sembra del tutto priva di senso. Si auspica ad una fermata ad alta velocità che altro non farebbe che migliorare il trasporto pubblico e di conseguenza favorire dinamiche sociali, economiche e culturali che possano stimolare sviluppo e crescita per l'intero territorio della Piana. Adesso il Consiglio Comunale, dopo le sollecitazioni fatte nel corso degli anni da appositi comitati ad hoc, chiede che venga rivisto il piano dei trasporti per il rilancio economico, turistico e sociale di un basso territorio che travalica i confini comunali ed abbraccia l'intera Piana.